Qualche tempo fa mi è stato chiesto di fare un video su come determinare il prezzo di un'azione. Sarò sincero, determinare il prezzo di un'azione è un'operazione lunga, difficile e per l'investitore medio abbastanza inutile. Molto più interessante invece è sapere quanto stiamo pagando per il nostro ETF e cioè sapere se stiamo comprando a un prezzo un po' gonfiato o se stiamo investendo a un buon prezzo. In questo video vediamo una tecnica molto semplice ma efficace per determinare il prezzo di un ETF. Se vi piace il video mettete like, iscrivetevi al canale. Io sono Alessandro Lazaro e vi parlo di economia e finanza in modo chiaro, semplice e completo. Si dice che valutare un titolo finanziario sia una combinazione di arte e scienza. Da un punto di vista scientifico, forse è meglio chiamarlo tecnico, ci sono due metodologie di valutazione. La prima è la valutazione intrinseca, per cui si fa una stima del flusso di cassa che un titolo potrà portare all'investitore in futuro e gli si dà un prezzo attuale. Questa tecnica è molto impegnativa e secondo me è un po' pericolosa perché quando bene siete arrivati al vostro prezzo, se differisce parecchio del prezzo di mercato, spunta un dubbio esistenziale. Cosa devo fare? Devo agire sulla base del mio prezzo? Oppure potrei aver sbagliato qualcosa? Hai ragione il mercato? In più, si innesca un problema psicologico. Visto che avete perso un mucchio di tempo a valutare un titolo, un po' vi dispiace buttarlo via se vedete che il prezzo è troppo alto e quindi sareste portati ad aggiustare i numeri e a portarvi a casa l'azione dell'azienda che tanto vi piace. Insomma, è una tecnica difficile, la usa Warren Buffett, lasciamogliela usare a lui. La seconda tecnica, molto più semplice e molto più comune, è la valutazione relativa e cioè non trovo un valore intrinseco, ma scopro se sto pagando tanto o poco per il mio titolo in confronto a quanto prezzano titoli simili. Da un punto di vista esistenziale è meno corretta rispetto alla valutazione intrinseca, ma è molto più pragmatica e soprattutto spendibile. Se avete comprato una casa, avete usato sicuramente la valutazione relativa. Non vi siete chiesti quanto potesse essere il valore intrinseco della casa sulla base di quanto l'avreste potuta affittare in futuro, tenendo conto dell'inflazione, della crescita economica, di eventuali crisi e sfittanze, eccetera. Immagino che abbiate visto un po' di case e le abbiate messe a confronto sulla base del prezzo al metro quadro. Il prezzo al metro quadro è quello che in finanza si chiama un multiplo e cioè un indicatore che serve per mettere a confronto asset simili e capire se il prezzo è in linea. Il multiplo più famoso in finanza, che sicuramente avrete già sentito, è il rapporto prezzo-utili, in inglese price earnings ratio e quindi comunemente chiamato P.I. Il P.I. ci dice quanto il mercato è disposto a pagare per un euro di utile o un dollaro o quello che è. Più alto è il P.I. e più io sto pagando l'asset, più basso è il P.I. e più sto comprando a un buon prezzo. Un altro modo per capire il P.I. è di girarlo, cioè se invece di fare prezzo su utili facciamo utili su prezzo, otteniamo un rendimento, il cosiddetto rendimento da utili. Se gli utili non aumentano ne scendono, comprando quel prezzo otterrò quel rendimento. Se compro un'azione con un P.I. di 20, facendo 1 su 20, trovo che il rendimento da utili è del 5%. Un'azione che invece ha un P.I. di 30, facendo 1 su 30, trovo che ha un rendimento da utili del 3% e quindi a parità di condizioni mi rende di meno. Chiaro questo? Adesso proviamo a buttare giù un po' di dati. Prendiamo tre indici molto comuni, l'SP500, il Fuzi Developed Europe e il Fuzi Japan. Quando si fanno queste cose il problema è trovare i dati. Per fortuna Vanguard ci dà gratuitamente alcuni dati fondamentali che possiamo usare. È importante perché è meglio, se possibile, usare i dati della stessa fonte per non rischiare errori alla base. Questi sono i nostri tre indici e il loro P.I., cioè il P.I. medio ponderato delle aziende che compongono l'indice. Paragonando i P.I. a parità di condizioni, cosa diremmo? Diremmo che l'America è sopravvalutata, che l'Europa è prezzata bene ma che possiamo trovare un ottimo prezzo andando sull'indice giapponese. Perché ho detto più volte a parità di condizioni? Il P.I. è un indicatore sintetico. Ci dice quanto il mercato è disposto a pagare per un euro di utile. Ma non ci dice perché. Se il mercato è disposto a pagare di più per un titolo, forse un motivo c'è. Immaginate che due vostri amici vengono da voi e vi chiedono dei soldi in prestito. Uno è un segno dell'informatica e vi dice, mi servono per aprire una piattaforma, la faccio io con due dipendenti o a pochi costi, mi aspetto un ritorno del 20% già dopo un anno. Il secondo amico è un ristoratore. Vi dice, mi servono i soldi per aprire un ristorante, ho bisogno dello spazio, arredarlo, comprare le materie prime, assumere persone, mi aspetto un ritorno del 5% dopo un anno. Voi a chi li dareste? Al business che produce il ritorno più alto. In gergo si chiama ritorno sul capitale, in inglese return on equity. In soldoni, quanto l'azienda riesce a far fruttare i soldi degli azionisti. Un euro reinvestito in un'azienda con un ROE alto vale di più che un euro reinvestito in un'azienda con un ROE basso. Per fortuna, Vanguard ci dà anche questo valore, che andiamo ad inserire nella nostra tabella, da cui appare che l'America potrebbe non essere così sopravvalutata e il mercato invece potrebbe avere ragione. Di quanto? Per mettere a confronto un dato unico, dividiamo il PI per il ROE, fatte pure in valore assoluto, tanto è una misura sintetica. Quello che troviamo è una specie di indicatore della qualità, cioè ci dice il prezzo degli utili aggiustati per la qualità degli utili. E così facendo troviamo che l'America non solo non è sopravvalutata, anzi sembra che sia addirittura sottovalutata rispetto agli altri due. E che il Giappone, che sembrava quello prezzato meglio, invece è il peggio prezzato per via della qualità peggiore degli utili delle aziende giapponesi. Ora, qui si potrebbero fare molti discorsi, perché adesso interviene quella componente di arte di cui vi avevo parlato, per cui bisognerebbe fare dei ragionamenti. Come mai le aziende americane hanno un ritorno sul capitale così alto? È sostenibile nel tempo? Noi sappiamo che il rendimento storico delle azioni negli ultimi 50 anni è intorno al 10%, quindi il 20% è tanto. Altri ritorni sul capitale, su una massa di denaro così grande per tanto tempo, possono significare solo una cosa. Mancanza di competizione. Non faccio nomi, ma il capitalismo americano è da tanti anni che tende verso l'oligopolio, in certi casi anche il monopolio. E il rischio qui è che a un certo punto il governo americano si svegli e cominci a spezzare i big della tecnologia in aziende separate, creando più competizione. Facciamo una stima. Se l'eroe delle aziende americane dovesse scendere al 15%, comunque ben sopra gli altri due, ecco che l'America diventerebbe sopravvalutata. Insomma, a che conclusioni arriviamo? Io direi, intanto, che il Giappone non è apprezzato bene come sembra. Secondo, che l'America non è apprezzata male, se le cose continuano così, ma che manca, direbbe Buffett, di un margine di sicurezza, in caso le cose tornino alla normalità. E che l'Europa, nonostante tutti i problemi che ha, probabilmente è quella apprezzata meglio, avendo sia un prezzo, sia un ritorno sul capitale, buono ma conservativo. Potete usare questa tecnica su qualsiasi ETF di cui avete i dati. State attenti però di paragonare indici simili e fate sempre dei ragionamenti. Non prendete il dato per come è, perché le cose in economia possono cambiare e anche alla svelta. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace, iscrivetevi al canale. Se state cercando un programma di investimento che vi aiuti a capire come scegliere gli indici giusti e i migliori gestori, in modo da poter costruire un portafoglio da soli, andate a vedere la pagina del mio videocorso Accumulare Capitale, il corso dedicato a chi vuole investire in autonomia. Provate il link in descrizione qui sotto. Io sono Alessandro Lazzaro e ci vediamo nel prossimo video.